Siamo venuti nel finale, abbiamo vinto questa partita, era veramente durissima, fino all'ultimo secondo, era fino alle 7 metri, anche per loro era una partita veramente dura, conosciamo già dal campionato, nel trentino Alto Adige, ma poi nell'ultimo tiro ho fatto l'ultimo gol e abbiamo vinto e siamo nel finale. È stata una partita tirata fino alla fine, ci abbiamo messo l'anima, sia noi che il Brunico, siamo due squadre che ci conoscevano benissimo e quindi abbiamo combattuto fino all'ultimo secondo. Hanno vinto loro, se lo meritano come se lo meritavamo noi. Questa è stata la mia ultima partita, quindi volevo ringraziare la società e niente, questo mondo della pallavano è stupendo e sarò sempre lì. Grazie. Grazie.